senza desiderarla cerchio k attraverso marco a cura di vb entità ospite padre stendi la tua benevolenza su chi nel tuo nome compie un'opera d'amore stendi il tuo dominio nelle coscienze di tutti quelli che desiderano la conoscenza ma beato colui che la trova senza desiderarla stendi il tuo braccio signore su chi persegue e desidera il misticismo ma beato è colui che lo trova senza desiderarlo stendi il tuo perdono ammesso che tu possa condannare su colui che persegue la via dell'azione ma beato è colui che trova l'azione senza desiderarla beato è colui che trova una ragione d'esistenza nell'ingiustizia perché costui ha compreso la giustizia beato colui che nell'umiliazione trova pagamento perché ha compreso il valore d'ogni terrena e celeste potestà beato è pure colui che cerca il dolore non per elevare se stesso infatti non c'è più egoista di lui tra gli uomini dunque beato colui che cerca il dolore non per elevare se ma perché attraverso di esso può o crede fermamente di poter elevare gli altri beato davvero è costui se non si occupa neanche per un istante di riscontrare nel concreto la riuscita del suo nobile scopo un simile uomo presto raggiungerà la gloria suprema e certamente egli può testimoniare la tua gloria o signore pace